Bentornati a tutti! Sono felice di potervi annunciare che il nostro film è stato un successo PLANETARIO! Abbiamo sbancato tutti i botteghini con incassi mai registrati prima nella storia del cinema, un successo apparentemente incredibile che noi sappiamo essere frutto di un lavoro di grande qualità, di relazione, competenza e grande determinazione! Grazie a tutti per questo grandioso successo! Alla vostra salute!